Vieni con me amore, non piani raccordo anulare Bella ragazzi, sono Grananas e bentornati sul nostro canale Oggi saremo qui per una sfida molto... Allora, siamo qui per una sfida fantastica, oggi come vedrete C'è una panchina, fantastica con una roba random In dei panchine, i pezzi che le scrive queste bombe Verranno zombie rubo e fiori dalle vostre... non era quella cosa che volevi dire? No Cosa dovremmo fare? Dovremmo prendere la roba che sta sulla panchina La roba, abbiamo visto la cocaina, la bamba e la droga Siamo andati a samba Ovviamente le cose sono di diversa grandezza, età e sesso Vabbè non so fare un intro, comunque chi ne prendete più vince E non fa niente se una è più grande o più piccola Ma fatemi fast intro per favore, non è molto semplice farla in questo modo Volevo chiedere tutti gli orifizi Comunque, e niente, ci vediamo in campo, avete capito molto? Poi mi sembra male a spiegare il microfono perché ora non ci riesco a dirla Allora praticamente quello che cercavo di spiegare ma che non mi hanno fatto spiegare È che dobbiamo prendere quegli oggetti sulla panchina e chi ne prendete più vince Anche se sono di diversa grandezza non fa niente Ovviamente si punterà prima a prendere quelli più grandi Ma andiamo subito a vedere quali saranno gli oggetti E ricordatevi ragazzi, lasciamo 20.000 like per vedere un'altra challenge di queste sul canale Abbiamo detto che se ci arriviamo tutti quanti ai like che abbiamo detto Facciamo una sfida a settimana Perciò 20.000 like spolliciate e ci sarà una sfida a settimana Vi lascio al video Allora abbiamo un secchio di sborra Un secchio di frati sporchi Incredibile Una borraccia piena d'acqua La cosiddetta sborraccia Incredibile, piena d'acqua tipo fino a qua Della Royal, signori grazie Tra l'altro passate il link in descrizione perché la Royal ci ha sponsorizzato Gli scherpini della Royal Poi abbiamo Una palla imbustata Palla imbustata A soli 15 euro e 99 euro Poi incredibile il pezzo forte della collezione Racchetta in birillo Racchetta in birillo Viola e blu Molto da design nuovo E poi incredibile, signori Vetri Grazie per una menzione al risparmio casa Grazie risparmio casa Grazie per il prodotto per pulire i vetri L'antialone E poi un grazie birillo Un grande birillo, signori Quindi questo è il totale Il toto La rutto, raga La rutto, raga Però tu sei qualcosa la di giù What the fuck Oh Tipo lì Non è gol Però signori, il gol Bravezza Bravezza Mi aggiudico il mio tempo Basta te liate No dai No vabbè No vabbè No vabbè Oh vabbè Oh vabbè Oh vabbè No vabbè No vabbè C'è l'ora che vabbè solo col ventifello Questo non valeva Questo non valeva perché non ha preso direttamente ma ha preso la panchina Quindi non vale, effetto collaterale non vale Maro Langotto Hai pianto il palo prima Non vale signori, ha preso prima il palo Siamo riusciti a prendere i due più piccoli E' una cosa incredibile Signori uno 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 No, vabbè oh you touch my talala mmm my ding ding dong tu è ah mi sono io scopato ah oh eeeh 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 faccio di mentino e di più la dose ahahah ah 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 oddio adesso ce la giochiamo tutti eh allora praticamente no adesso cioè se il dread dovesse prendere quello che rimane il pallone che rimane siamo tutti quanti a due e quindi metteremo un altro oggetto in mezzo e il primo che lo prende vince altrimenti la madonna ci dirà cosa fare non va oh 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 Bella!